Alessandro Ghinelli lo aveva chiesto direttamente al premier Giuseppe Conte arrivato ad Arezzo nei giorni dell'Assemblea Nazionale di Anci. La nostra città, aveva detto Ghinelli, non può non avere una superintendenza autonoma, ma evidentemente il suo appello è, almeno per il momento, caduto nel vuoto perché il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha lasciato a Siena il ruolo di capofila della Toscana del Sud per quello che concerne la materia di archeologia e belle arti. Sette le nuove superintendenze create dal ministro ma Arezzo non c'è. Purtroppo no, io non so quanto questa fosse un'iniziativa già predisposta da tempo e sulla quale quindi evidentemente l'appello che io ho fatto direttamente al presidente del consiglio che l'ha trasferita a Franceschini non abbia potuto essere accolta, quindi non lo so e non faccio polemica. Dico soltanto che insomma a noi la sovrintendenza che avevamo è stata tolta, le città che vedono in elenco non hanno il patrimonio artistico, culturale, architettonico, demo etno-antropologico come piace a Franceschini descriverlo come Arezzo, quindi francamente poteva essere recuperata. Mi auguro che non sia chiusa la partita e che questo sia un provvedimento che viene da lontano e che possa avere un'aggiunta o una modificazione in un prossimo immediato futuro. Tenete conto che su questo si era espresso molto favorevolmente il presidente ministro Bonisoli che mi aveva dato atto che Arezzo non poteva essere trattata la strega di Cagliari o Sassari. A questo punto io ho scritto una comunicazione alla segreteria del ministro chiedendo un'audizione perché a questo punto con Franceschini ci voglio parlare, cioè voglio capire quali sono i motivi oggettivi per cui Arezzo deve rimanere in un'unica sovrintendenza con Siena e Perugia. Gli domanderò se a suo avviso la caratura culturale, scientifica e artistica di Arezzo è da meno di quella di Ascoli e mi dovrà dare una risposta.